in molti altri luoghi.f attraverso francesca r 11 giugno 2023 a cura di vb domanda perché in altri luoghi in molti altri luoghi si dice che la reincarnazione è ineluttabile per tutti mentre voi parlate di un ente di un soggetto che non si è mai reincarnato e tuttavia è evoluto michel perché quell'ente è la parte stessa dell'essere che non ha necessità incarnativa altrimenti come farebbe l'essere ad essere in tutte le possibilità ed essere nel ricordo di ogni possibilità possibile domanda questo ha a che fare con i maestri del karma di cui parlano anche in altri luoghi michel per capire meglio certo ha a che fare sì